E ora partiamo con un recap delle puntate precedenti. Nella prima puntata abbiamo visto chi erano Nathan e Richard, Nathan Leopold e Richard Loeb. Erano due ragazzi, proprio detto in breve, entrambi plus dotati, Nathan in maniera ancora più evidente rispetto a Richard, entrambi ebrei, entrambi multimilionari, entrambi studenti eccellenti, ma con due personalità abbastanza complementari. Da una parte vediamo Nathan, che è una persona molto chiusa, tendente all'isolamento e con passioni molto settarie, mentre Richard è molto più socievole rispetto a Nathan, è anche una persona molto popolare a scuola e gode di un'ottima fama sociale, mentre Nathan il contrario. Richard è sportivo ed esce con tante ragazze, mentre Nathan è il classico stereotipo di quello che adesso chiameremo il nerd. Cosa succede? I due si incontrano e da lì le loro personalità, ovviamente anche disturbate, perché con una sessualità fortemente repressa da entrambi i lati, o meglio, dalla parte di Nathan era una sessualità invece che gli era stata imposta dalla governante che lo aveva accudito, che aveva con lui dei comportamenti abusanti a livello sessuale, mentre Richard aveva subito il contrario, quindi la soppressione di tutti gli istinti e anche dell'argomento sessuale. Quindi si incontrano e succede un vero patatrack, perché le loro menti, così anche intelligenti, cercano di trovare una sorta di motivazione filosofica al compiere il delitto perfetto. Adesso vedremo un pochino più nello specifico che cosa intendo quando dico che era una motivazione filosofica, perché se ne parlerà anche al processo. Comunque sia, quello che c'è da sapere è che si rifaceva alla teoria del superomismo, c'è da sapere qui nel recap, è superomismo niziano, che si basa sulla teoria del superuomo e detto proprio in soldoni, la loro intenzione era quella di astrarre il concetto di delitto e di riportarlo a una condizione puramente teorica, così come si potrebbe fare nell'uccisione di un insetto al fine di studiarlo. Era come se giustificassero il delitto a fini nemmeno scientifici, bensì appunto filosofici. Era come per dimostrare la loro superiorità e la superiorità anche a cose effimere come la morte. è detto proprio veramente in mega soldoni, raga, che se no ci stiamo fino a domani. Quindi cosa fanno? Pianificano questo delitto dopo una serie di piccoli crimini che avevano compiuto e rapiscono questo ragazzino di 14 anni, Bobby Franks, è un altro ragazzino ebreo, sempre di una famiglia super milionaria di Chicago, lo uccidono per una serie di errori, quali la perdita degli occhiali di Nathan sul luogo del delitto, così come l'utilizzo di una macchina da scrivere che era stata riconosciuta dai compagni di studio dei due, così come anche la testimonianza dell'autista e di Leopold inchioderanno i due, che alla fine confesseranno, anche se al inizio si accuseranno a vicenda per l'atto finale. Li fanno confessare dopo questa atipica cena a un hotel lussuoso, dove i due si erano aperti, e dopo questa cena i giornalisti avevano iniziato a informarsi autonomamente, a indagare e avevano scoperto quest'altro indizio della macchina portatile, della macchina da scrivere e poi era venuta fuori la testimonianza veramente inchiodante dell'autista. I due confessano e quindi che cosa succede? Succede che le famiglie davano quasi per scontato che i due sarebbero stati condannati a morte perché il delitto era troppo atroce e quella diciamo era la pena prevista per un tale delitto. Però c'era un avvocato al tempo che era molto conosciuto per la sua presa di posizione contro la pena di morte e questo avvocato si chiamava Clarence Derru. Praticamente questo avvocato che nel libro scritto da Mayer Levine, che è il libro Compulsion che va molto più nello specifico, si chiama... Aspetta che ve lo dico subito, eh. Si chiama... Ma perché non mi ricordo mai i nomi? Ma che problemi ho? Io veramente... Come cacchio l'hanno chiamato? Aspettate, eh. Perché veramente, se no... Allora... Ah, ok, Wilk, 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 Wilk. Lo chiamano Wilk nel libro. Praticamente viene descritto come un avvocato molto all'avanguardia, una persona che aveva comunque sia fatto un sacco di studi anche sulla pena di morte e insomma si affidano a lui per cercare di salvarli almeno da questa pena. Lui era un avvocato che solitamente difendeva le persone povere, però diciamo che rimane molto incuriosito da questo caso e soprattutto per la sua etica personale appunto che vedeva come immorale la pena di morte decide e anche vedendo la giovane età dei due che ricordiamo avevano 18 e 19 anni Clarence Darrow decide di accettare il caso. Accetta il caso ma capisce da subito che l'unica opzione per salvare i due dalla pena di morte sarebbe stata quella di evitare una giuria popolare perché come sappiamo c'era questa opzione e quindi fa firmare un atto di colpevolezza ai due imputati a Nathan e Richard che lo firmano e cosa succede? Nel frattempo però lui voleva sfruttare le atipicità passatemi il termine cioè sfruttare in questo senso sì perché comunque sia le voleva utilizzare per ottenere una pena più lieve ma voleva evitare ve lo sto davvero spiegando super di assunto voleva evitare di ottenere l'infermità mentale perché questo avrebbe comportato se ho capito bene l'invalidità della confessione e quindi la presenza di una giuria e lui voleva invece presentarsi semplicemente al giudice perché riteneva tra l'altro che fosse più funzionale perché una giuria popolare avrebbe sicuramente decretato la pena di morte per i due perché ricordiamo che i due erano due rampolli della Chicago bene da fuori non mancava loro niente anzi erano dei privilegiati secondo le persone comuni e quindi c'era tantissima rabbia contro di loro una cosa che viene detta spesso in entrambi i libri che ho letto è che per fortuna tra virgolette erano entrambi cioè tutti ebrei perché altrimenti sarebbero state delle sommosse ancora più importanti giudice John Caverly che appunto Darrow reputava una persona aperta di mente e quindi che avrebbe potuto capire la sua posizione e tra virgolette graziare no, nemmeno tra virgolette nel vero senso della parola graziare Nathan e Richard il 23 luglio del 24 a Chicago inizia quindi il processo ai due che si svolgerà insieme e durerà ben 32 giorni 32 giorni e che vedrà soprattutto contrapporsi saranno diciamo proprio una specie di battaglia fra appunto Darrow e il procuratore Crow che ovviamente rappresentava l'accusa questo fu definito da tantissimi il processo del secolo perché fu un processo che ruppe tantissimi schemi e diciamo diciamo servì da spartiacque per una serie di cose che adesso capirete quando vi racconterò che cosa successe inizia appunto questo questo processo nel quale vengono ascoltati tantissimi alienisti perché così venivano definiti tantissimi psichiatri e psicologi alienisti perché appunto Darrow voleva dimostrare quanto in realtà i due ragazzi avessero dei disturbi non così visibili a occhio nudo perché ricordiamoci ragazzi che siamo negli anni 20 e che quindi c'era come c'è tutt'oggi quindi immaginiamoci al tempo la forte credenza che il malato mentale o comunque sia la persona che ha dei disagi psichici debba per forza essere una persona disfunzionale in ogni aspetto della sua vita adesso ovviamente sappiamo molto di più che non è così però all'epoca questa cosa era molto più radicata innanzitutto quando si apre il processo tutti anche lo stesso Clarence Darrow e la difesa non erano assolutamente solidali con i due voglio precisare questo che è un aspetto che nel libro viene spesso sottolineato Darrow non si mostrerà mai amichevole o così supportivo con i suoi assistiti perché anche lui era rimasto comunque sia un po' soccato da quello che era successo ma soprattutto dal fatto che i due non mostrassero nessun tipo di pentimento anzi erano soltanto dispiaciuti di essere stati beccati diciamo che alla domanda se l'avrebbero rifatto rispondevano entrambi di no ma soltanto perché per Richard non era stato così tanto divertente mentre per Nathan no perché sarebbe finito in carcere e forse morto quindi non era convenuto ma comunque continuavano con questo atteggiamento molto beffardo che voleva rimarcare il fatto che comunque sia nessuno aveva capito il motivo reale per cui loro avevano fatto questo orribile gesto che era quindi proprio quello di tentare di isolare l'impulso omicida per rappresentarlo e per fare un omicidio che non avesse proprio nessun movente ovviamente poi vedremo che non è così ce lo possiamo già immaginare però questo era quello che loro si dicevano fra loro e questo era quello che continuavano a dire all'inizio del processo in questo processo vengono sentiti come vi dicevo tantissimi testimoni tantissimi amici persone che andavano a scuola con entrambi le ragazze che frequentavano Richard la ragazza di cui si stava innamorando Nathan e vengono sentiti tantissimi di questi professionisti che iniziano a delineare quella che ho cercato di esporvi nel primo capitolo ovvero questa dualità profonda fra queste due personalità e di come l'incastro sia avvenuto in maniera proprio naturale e quasi conseguenziale perché viene ovviamente fatto tantissimo caso al passato dei due imputati ma comunque sia come dicevo verranno ovviamente sottolineati tutti gli aspetti che facevano parte del passato dei due imputati e verrà dato ampio spazio alla descrizione della complementarietà anche delle loro governanti come vi avevo già accennato perché come dicevo la governante di Nathan era una persona che aveva perpetrato ai confronti di Nathan vari abusi sessuali e che era una persona molto ignorante rozza viene descritta come quasi animalesca e vediamo come Nathan in realtà poi si sia espresso in una maniera molto diversa da questo imprinting che ha avuto mentre al contrario la governante che aveva cresciuto Richard perché entrambi erano stati cresciuti nella anaffettività delle loro famiglie questo viene sottolineato e no perché comunque si a quei tempi era davvero la normalità comunque viene detto che vengono cresciuti entrambi dalle governanti e Richard aveva questa governante che è di origine canadesi che si ergeva diciamo aristocratica inglese era super severa super bacchettona e pretendeva da Richard il meglio e quindi questo poi ha portato Richard a avere un comportamento opposto che tendeva ad essere bugiardo e smanioso di evadere alle regole e questo lo abbiamo visto appunto nel capitolo 1 in maniera molto specifica sì poi in questo durante il processo viene fatto ampio riferimento alle atipicità anche fisiche di Nathan perché al tempo era veramente comune andare a visionare le ghiandole e a ritrovare delle correlazioni con i comportamenti o con la psiche delle persone e soprattutto le ghiandole endocrine e Nathan aveva proprio degli scompensi a livello del sistema endocrino inoltre aveva anche un'altra atipicità veramente atipica che cavolo di gioco di parole praticamente aveva nel cranio allora l'esame radiografico del cranio rivela una piccola sella turcica che è la parte del cranio in cui trova posto la ghiandola pituitaria del cervello si nota una marcata calcificazione della ghiandola pineale cosa che normalmente non si rileva in così giovane età la congiunzione delle ossa del cranio mostra inoltre segni di osteosclerosi diciamo che al coinvolgimento di queste ghiandole spesso era associata una particolare potenza intellettuale e sessuale la glandiera pituitaria è sinonimo di ipofisi puoi spiegarci meglio Fabri che cosa vuol dire e poi durante il processo viene dato largo spazio al fatto che Nathan avesse comunque sia subito la perdita della madre che si era aggravata proprio a seguito della sua nascita e che questo avesse comportato un senso di colpa nei confronti di se stesso ma anche del padre queste in realtà nel libro vengono riportate come più che teorie che vengono fuori durante il processo teorie del backstage del processo come vi avevo già accennato tantissimi giornalisti si erano tra i cui appunto anche l'autore del libro si erano appassionati molto al caso e nel libro viene spiegato come il giovane giornalista si confrontasse con un altro collega collega anche degli imputati uno studioso perché ricordiamoci che erano tutti studiosi quindi molto interessati alle avanguardie riguardanti la mente umana e anche il diritto insomma tutto quello che stava succedendo si rendevano anche conto che fosse un momento storico perché questo processo fu oggettivamente un momento storico e quindi erano molto propensi a discutere e a dialogare su queste questioni è una piccola ghiandola delle dimensioni di un pisello situata per l'appunto nella sella turcica dello sfenoide che si scerne numerosi ormoni tra cui l'ormone somatotropo o della crescita FSH LH per lo più sotto stimolo di fattori di rilascio ipotalamici A C T H così piccola ma è il direttore d'orchestra del sistema indroclino al tempo ovviamente queste teorie erano teorie e quindi la difesa si batteva tantissimo per screditare tali teorie facendole passare come teorie strampalate insomma teorie new age e ovviamente per calcare su invece i privilegi dei quali i due avevano goduto per tutta la loro vita del fatto che in realtà fossero semplicemente delle persone cattive che non avevano avuto mai nessuna problematica perché nessuno aveva mai si era mai reso conto delle loro atipicità a parte che non era vero perché come abbiamo già detto nel capitolo 1 Richard aveva dei tic evidenti delle balbuzie dei problemi fisici Nathan lo stesso era comunque considerato strano inquietante da tutti quindi ma il fatto che frequentasse una scuola di alto livello secondo la difesa non poteva renderli delle persone con dei disagi psichici e durante questo processo vengono sollevati dalla difesa anche degli altri delitti dei quali in realtà i due erano già stati interrogati che riguardavano in particolare due studenti della stesso college frequentato dai due e poi anche l'omicidio di un tassista e di un'altra persona e Richard era stato sempre era Richard in realtà quello sospettato di questi delitti perché era lui che si vantava e rimaneva sempre molto ambiguo nel far pensare di aver fatto anche delle altre cose e questo lo faceva sia con i conoscenti che con gli inquirenti e le persone che lo interrogavano quindi ovviamente la difesa punta tantissimo su questi altri delitti tentando di appiopparli ai due e ovviamente si inalberano del fatto che la difesa li avesse nominati A, B, C e D quindi snaturandoli anche loro e diciamo non portando rispetto a quelli che erano degli omicidi ovviamente vediamo proprio una contrapposizione fra populismo perbenismo popolare e un altro tipo di approccio al diritto e alla mente umana e alla comprensione di quella che è anche la criminologia quindi vediamo come Nathan nasce proprio con questo senso di inadeguatezza che lo sentiva anche lo faceva sentire anche colpevole della salute precaria della madre e che secondo le teorie uscite fuori poteva ovviamente al tempo era molto in voga Freud cioè in realtà non tantissimo però per queste persone che erano diciamo l'elite degli studiosi era una teoria nuova e quindi diciamo che vedono in Nathan un complesso di edipo verso il padre e in conseguenza anche un rifiuto di tutto quello che il padre rappresentava e in prima istanza anche della religione ebraica perché poi ovviamente c'era questo fatto che lui non sapeva come nascessero i bambini e lo volesse sapere veramente molto era molto curioso sulla dinamica ma come succede spesso ai bambini prusdotati le sue richieste non vengono soddisfatte in maniera leale e cristallina bensì gli vengono fornite delle risposte le quali la solita cicogna eccetera cosa che in realtà spinge Nathan a interessarsi ancora di più a questa tematica e a incuriosirsi sia agli uccelli che anche ha al sesso perché comunque sia Nathan era veramente una persona fissata con il sesso ciao ray of gaming buonasera buonasera e in questo senso nasce anche il concetto dell'odio di sé intrinseco dell'ebreo che era un concetto veramente nuovo espresso dallo stesso Freud perché diciamo che le persone ebree secondo Freud hanno interiorizzato lo stigma e quindi possono provare un odio nei confronti di loro stessi per essere ebrei ora ve l'ho detto proprio così in supersintesi infatti è interessante vedere come Bobby Franks fosse un ragazzino ebreo in età in procinto di di svolgere il suo bar mitzvah quindi l'ingresso nell'età adulta come se Nathan avesse voluto uccidere se stesso cioè bloccarlo a quell'età un po' questa è l'idea in soldoni che si fanno le persone che studiano attentamente questo caso all'epoca e praticamente vengono evidenziati proprio come la follia che viene proprio esplicitata durante il processo e che poi ispirerà anche un film era facilitata dal fatto che innesco subito dall'infanzia stava continuando a generare un processo tale che continuava a renderli complementari provo a spiegarmi meglio da una parte c'era Richard con una personalità in via di disgregazione era una persona annullata con una penso io questa è una mia ipotesi una depressione latente cronica una una noia verso tutto quello che riguardava la realtà dall'altra parte vediamo invece Nathan che è una persona super curiosa con una veramente una fame di sapere degli interessi assorbenti che comunque sia lo tengono molto vivo e attivo in Richard vengono riscontrate anche delle tendenze antisociali viene anche evidenziata la sua immaturità proprio emotiva non quella intellettiva ma quella emotiva e viene diciamo paragonata a quella di un bambino di 5 anni vengono evidenziati degli atteggiamenti atipici svolti da Richard come quelli di parlare spesso con un peluche di giocare da solo interpretando diversi personaggi anche per la strada spesso investigatori privati dall'altra vediamo invece Nathan che non è mai stato un bambino e che è sempre stato un piccolo lord anziano che ha detto la sua prima parola a 4 mesi e ha camminato a 3 mesi e quindi vediamo veramente come queste due personalità fossero mi viene quasi da dire destinate a incontrarsi purtroppo soprattutto per Bobby Franks in questo processo e in questo libro viene addirittura da un avvocato della difesa citato la parola autistico perché viene inquadrata il funzionamento di Nathan come ossessivo e con un pensiero di carattere autistico raga 1924 cioè ne ce ne rendiamo conto adoro quando l'ho letto veramente ho adorato cosa succede continuano questi dibattiti super accalorati che vedono ovviamente la difesa tentare di mostrare i due come vittime del proprio intelletto anche della propria condizione sociale di queste disincronie come ha detto Fabri assolutamente sì e dall'altra vediamo l'accusa invece cercare di minimizzare ridicolizzare tutte queste teorie ovviamente trovando anche terreno fertile a livello popolare ma il giudice invece ovviamente era quello che contava quindi continuano questi dibattiti fino a che non inizia la ringa di Darrow che durerà tipo tre giorni una roba del genere e parte proprio con l'evidenziare come in quegli anni del dopoguerra perché siamo ancora nel dopoguerra si fosse normalizzato l'omicidio e l'aspetto della morte proprio per la guerra e che quindi cioè sia questa cosa viene detta per scongiurare la pena di morte quindi per un discorso della serie come possiamo adesso fingere che vogliamo stare in pace condannare questi episodi e poi renderci colpevoli di questi ultimi sia per passatemi il termine giustificare i comportamenti dei due e per far capire come avessero interiorizzato la facilità della morte e anche l'inutilità della vita sono un attivista e advocate nell'anima ma se ero parente di Bobby me ne fottivo della loro eccezionalità lo dico papale papale eh sì eh sì il povero Bobby non c'entrava assolutamente niente con le loro cazzate e non meritava assolutamente una fine simile però ehm da una parte capisco la non pena di morte anche se dopo vedremo come andrà a finire quindi ehm questa ringa eh cerca proprio di colpire al cuore eh il giudice ovviamente anche tutte le altre persone eh tentando di eh smuovere la morale no delle persone di elevarla e di renderle più umane ehm poi ovviamente eh questa ringa si rifà tantissimo anche alle condizioni di disagio dei due che abbiamo già citato certo infatti Fabio non avevo dubbi e vi voglio leggere proprio un passaggio tratto dalla ringa di Darrow di Darrow ehm che è molto bello so so che il futuro è con me ed è il motivo per cui io sono qui ora non solo per le vite di questi due sfortunati giovani ma per tutti i ragazzi e tutte le ragazze e per quanto è possibile per tutti gli adulti io combatto per la vita la comprensione la carità la gentilezza e l'infinita pietà che ci riguarda tutti vostro onore si trova tra il passato e il futuro può giustiziare questi ragazzi ma in questo caso volterebbe la faccia verso il passato rendendo più difficile la strada per ogni altro ragazzo che nell'ignoranza e nell'oscurità deve procedere attraverso il labirinto che ogni infanzia conosce io combatto per il futuro per quei tempi in cui l'odio e la crudeltà non controlleranno più il cuore degli uomini quando impareremo con la ragione e il giudizio e la comprensione e la fede che la vita è un bene prezioso e che la pietà è la più alta qualità dell'uomo se riuscirò nel mio intento la mia maggiore ricompensa e la mia più grande speranza sarà di aver fatto qualcosa per le decine di migliaia di altri ragazzi per gli innumerevoli sfortunati che devono percorrere la stessa strada in infanzia e cieche qualcosa per aiutare l'essere umano a capire per temperare la giustizia con la misericordia l'odio con l'amore ovviamente raga questo è un discorso per far leva sull'emotività quello che ci sta dietro a questa scelta è a carattere più giuridico e filosofico però anche emotivo perché no c'è il gatto che gratta alla porta e voglio leggervi anche un altro estratto molto interessante che fa capire come lui volesse appunto buttare un semino per la criminologia che conosciamo adesso il crimine ha le proprie cause gli scienziati lo studiano insieme ai criminologi ma noi avvocati proseguiamo per la nostra strada punendo e impiccando convinti di poterlo estirpare con il terrore generalizzato il crimine ha una propria causa così come ce l'ha una malattia e il modo di affrontare razionalmente un qualsiasi stato di anormalità consiste nel rimuoverne la causa un medico chiamato a curare una febbre tifoide cercherebbe probabilmente di individuare l'origine dell'acqua bevuta dal paziente dopodiché individuato il pozzo ordinerebbe di ripulirlo per evitare che altri possano ammalarsi se per curare la febbre tifoide chiamassimo invece un avvocato questi infliggerebbero al paziente 30 giorni di carcere pensando che così nessun altro oserebbe bere l'acqua impura se il paziente dovesse guarire in 15 giorni sarebbe ugualmente tenuto a scontare la pena fino alla fine e se tra scorsi 30 giorni la malattia dovesse essere peggiorata il paziente verrebbe ugualmente rilasciato perché la pena inflitta sarebbe stata scontata quindi vediamo ciao Ale buonasera vediamo proprio come qui si voglia gettare come ho detto un semino verso quello che è anche l'abolizione della pena di morte è super interessante secondo me dai grazie Ale grazie è il secondo mese grazie troppo carino e quindi alla fine di questa super arringa super arringa che verrà ovviamente seguita da quella del procuratore Crow che si baserà sul fatto di ridicolizzare questi moventi filosofici ma di andare sul terra terra e di rappresentare i due imputati come due persone gritte semplicemente cattive alla fine però il giudice decreterà per la non pena di morte e diciamo che la sentenza aggiudicherà a entrambi un ergastolo più 99 anni quindi c'è anche un libro scritto da Nathan che si chiama Life plus 99 years cioè lui parla del dopo cioè da dopo che gli danno questa sentenza quindi evita di parlare delle cose interessanti cosa succede vanno un pochino in carcere tra l'altro si vedono anche cioè ai primi tempi possono anche vedersi anche loro no loro non erano insieme erano però entrambi alla Joliet prison e però si potevano vedere in ambienti controllati solo che tra l'altro facevano anche delle cose insieme a livello di studio per migliorare la biblioteca e la scuola lì dall'interno del carcere sono i secchioni e cosa succede però che dopo qualche anno nel 1936 quindi soltanto dopo 12 anni succede che Richard viene diciamo ferito a morte da un compagno di Cella a seguito di quelle che verranno descritte come molestie anche se poi in realtà sembra che furono soltanto delle richieste di rapporti sessuali che però avevano incontrato evidentemente l'omofobia di questo compagno di Cella che lo aveva ferito a morte c'era stata una corsa all'ospedale all'ultimo minuto tra l'altro Nathan era corso in ospedale per salutare Richard per l'ultima volta che gli muore fra le braccia sembra un film ma è successo davvero e Nathan rimane ancora in prigione fino a che non ottiene la libertà sulla parola nel 1958 quindi alla fine soltanto non so fare i calcoli soltanto 34 anni dopo alla sentenza dell'ergastolo più 99 anni e poi si sposterà a Porto Rico dove si era sposato e muore all'età di 66 anni nel 71 col cacchio che aveva 76 anni perché non so fare i calcoli raga questa storia continua ad appassionare a ispirare libri film cioè già da quegli anni là perché immaginate che oggi per i processi più eclatanti si rispolverà lo slogan alla Leopold del Lob perché fu uno dei processi appunto più mediatici dell'epoca fu scritta una piece teatrale da Patrick Hamilton approdata poi in tv nel 39 e al cinema nel 48 che poi fu di ispirazione allo stesso Alfred Hitchcock che ne trasse il film nodo alla gola poi c'è il dramma Never the Sinner di John Logan nell'88 e il musical Thrill Me The Leopold and Love Story di Steve Dolginhoff e poi c'è anche il film tratto dal libro che ho letto io che è il libro di Compulsion è stato scritto appunto nel 1956 che è poi stato trasformato nel film Frenesia del Delitto che poi nel cinema sono stati anche raccontati da Tom Cullin in Swan e nei thriller Funny Games del 97 Formula per un Delitto nel 2002 che praticamente hanno tutti preso spunto dal loro rapporto morboso di interdipendenza psicologica per descrivere coppie di ragazzi che ucciscono senza un muovente e tra l'altro tra le teorie avanzate dai vari intellettuali che orbitavano il processo viene avanzato anche il fatto che Nathan fosse una sorta di uccisione della vita proprio del fatto di venire al mondo perché ricordiamoci che la famiglia di Nathan avrebbe voluto tantissimo una femmina e quindi Nathan vive proprio nel senso di colpa di essere se stesso viene poi mandato anche in una scuola femminile e questo acuirà il suo senso di disagio in più poi sommato alle cose che abbiamo detto prima lo farà diciamo maturare questa vendetta contro la vita che nel suo immaginario era una ragazza perché ci ricordiamo che lui avrebbe voluto tanto uccidere una ragazza perché lui evidentemente si impersonificava o comunque sia impersonificava anche la sua governante e tantissime altre cose sopite nel suo inconso e vediamo anche come il punto in cui Nathan decide e insiste di porre il corpo del piccolo Bobby Franks sia una sorta di riproduzione dell'utero materno perché ci ricordiamo che era un condotto comunque in un ambiente umido e acquitrinoso e che lui aveva posto proprio il piccolo Bobby Franks con un piedino che usciva e come se lo avesse come se si fosse diciamo annullato e avesse annullato la sua stessa esistenza compiendo questo atto catartico non so se è stata chiara la mia spiegazione di questa cosa un po' arzigogolata però penso che questa interpretazione sia super interessante ditemi anche voi come vi sembra e io raga anche stasera avrei finito qui il caso di stasera in realtà il caso di questi due simpaticoni voglio parlarne con voi quindi ditemi cosa ne pensate cosa vi ha colpito di più se ci sono delle riflessioni in particolare che vi va di fare questo è il libro ve lo riconsiglio è bellissimo cioè è bellissimo anche se sapete già cosa succede intanto vi ringrazio per avermi ascoltato fino qua vi ricordo di sostenermi anche sul canale youtube mi raccomando se avete dei casi atipici da propormi non esitate a farlo iscrivetevi anche al gruppo telegram così che possiate rimanere sempre aggiornati su quello che succede e niente raga io vi mando un bacione vado a cena e grazie ancora grazie a tutti